Ciao a tutti e benvenuti al nostro canale, tragico lutto per il cinema mondiale. La drammatica notizia è arrivata poco fa. È una notizia straziante quella che è giunta poco fa, una notizia che ha colpito il cinema mondiale con una forza devastante. È con un profondo dolore nel cuore che diciamo addio per sempre all'uomo che ha ispirato il celebre film Quasi Amici. Ritorniamo indietro nel tempo, alle radici di questa storia straordinaria. Ricordate quel film indimenticabile, Quasi Amici? Che ha toccato i cuori di milioni di persone in tutto il mondo? Bene, dietro a quel capolavoro si nasconde un uomo tetraplegico. Un uomo che ha vissuto sulla sua sedia a rotelle e che ha lasciato un segno indelebile nella nostra memoria. Il nome di quest'uomo straordinario era Filippo Pozzo di Borgo e purtroppo, il 3 giugno 2023, si è spento per sempre. Filippo Pozzo di Borgo è stato il vero ispiratore di quella pellicola di grande successo. Un uomo che ha trascinato il suo drammatico destino nel libro intitolato Il diavolo custode. Ma chi era veramente Filippo Pozzo di Borgo? Quest'uomo straordinario ci ha lasciati all'età di 72 anni, ma la sua vita, segnata da una tragedia senza pari, ha ispirato non solo un film di successo, ma ha lasciato un'impronta profonda nelle vite di molte persone vulnerabili e fragili. Filippo Pozzo di Borgo, un ricco aristocratico tetraplegico, non era solo un uomo d'affari e un imprenditore di successo, ma rappresentava un simbolo di coraggio e forza. Viveva in un sontuoso palazzo a Parigi, una dimora che sembrava uscita da un quadro. La sua storia è stata portata sul grande schermo grazie all'interpretazione straordinaria di François Cluset, che ha incarnato l'uomo sulla sedia a rotelle, e Omar S.Y., che ha dato vita al suo amorevole assistente. Il film, diretto da Eric Toledano e Olivier Nakash, è una combinazione straziante di tragedia e commedia, una storia che ti stringe il cuore e ti fa sorridere allo stesso tempo. I registi, commossi per la tragica notizia, hanno espresso il loro dolore su Twitter. Abbiamo appena appreso con grande tristezza della morte del nostro amico Filippo Pozzo di Borgo. Accettando di far adattare la sua storia in quasi amici, ha cambiato le nostre vite e quelle di molte persone vulnerabili e fragili. Con queste parole, riflettiamo sulle profonde emozioni che questo uomo straordinario ha suscitato in noi e nel mondo intero. La sua storia ha toccato le corde più profonde dell'animo umano, insegnandoci il valore della compassione, dell'amore e della resilienza di fronte alle avversità. Oggi, mentre piangiamo la sua scomparsa, ci aggrappiamo a quell'eredità di speranza e ispirazione che Filippo Pozzo di Borgo ci ha lasciato. Speriamo che questo video sia stato un omaggio adeguato a un uomo straordinario e che abbia contribuito a diffondere la consapevolezza della sua storia e del suo impatto nel mondo del cinema e al di là di esso. Se ti è piaciuto il nostro video, ti invitiamo a mettere un piace, a condividerlo con i tuoi amici e commentare i tuoi ricordi legati al film iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere aggiornato su contenuti ispiratori come questo e molto altro. A presto!